L'unica via, l'unica possibilità reale, vitale dell'esistenza, l'unico modo per essere felice, essere in pace, essere se stessi. Essere se stessi. Ma se stessi chi? Come puoi essere te stesso se non sai chi sei? Come puoi essere te stesso se sei in continuo mutamento? Le persone vogliono solo essere capite, comprese, accettate, anche quando loro stesse non si capiscono. Vogliono il loro posto nel mondo, in armonia con se stesse e in armonia con gli altri. E questo è un diritto di nascita. Te stesso chi? Scopriamolo insieme. Troviamo la via. Grazie all'astrologia scoprirai chi sei e scoprirai come mutare secondo la tua direzione e di sviluppo. Le tue direzioni.